Ti piacerebbe non spendere un euro per avere un impianto nuovo di zecca e poter incassare denaro grazie agli incentivi statali disponibili? Ciao, sono Andrea Terreno, architetto di Elitech e tuo Prometeo. Molti legano il LED al semplice risparmio energetico, ma non conoscono tutte le possibilità che questa tecnologia offre per guadagnare denaro e vivere come un vero e proprio investimento. Legare il potere del risparmio energetico a forme contrattuali come il noleggio operativo, i contratti bianchi o Industria 4.0 permettono di abbattere notevolmente i costi sia di consumi elettrici e sia di manutenzione, ma anche legarsi a forme contrattuali che permettono di accedere a finanziamenti e incentivi statali e letteralmente guadagnare attraverso l'illuminazione. Tutto questo è possibile a costo zero o addirittura incamerando denaro nel tuo flusso di cassa. Tutto passa da un lighting contract specializzato come Elitech, da una progettazione illuminotecnica professionale e da un click da parte tua per richiedere maggiori informazioni, perché ricorda per Elitech un progetto senza luci è come un cielo senza stelle. Ciao, alla prossima!